A me non piace parlare senza avere gli atti sotto mano. Siccome questi atti si stanno concretizzando in questi giorni, sicuramente nel momento in cui sarà concretizzato l'incarico all'importante ente che seguirà questo percorso per rivoluzionare tutto il sistema del rapporto con i gestori di telefonia mobile nel nostro territorio e quindi porterà questo percorso che sarà condiviso con tutta la comunità per la modifica del regolamento relativo e del piano dei siti idonei anche per i prossimi tre anni. Spiegherò esattamente in che cosa consiste tutto questo lavoro. Io mi affiancherò a questo ente e chiederò anche il sostegno di tutti i presidenti di quartiere che mi sono stati vicini fino adesso, anche di tutti i comitati, che invito di nuovo invece di parlare sui giornali e di venire presso l'assessorato perché comunque insieme al portavoce del sindaco e quindi il sindaco sta seguendo personalmente tutta la vicenda e io sono soddisfatta del percorso che sta per iniziare. Però, come vi dicevo, preferisco parlare con delle parole che non hanno ancora degli atti sotto mano anche se sono sicura che la concretizzazione ci sarà da fine mese, ma quello che conta è il lavoro che sarà fatto dopo e quello è un lavoro di condivisione della comunità perché ricordo che la tutela della salute è una delle priorità per la nostra amministrazione e della propria comunità. Però noi abbiamo anche l'esigenza di innovazione che è un'esigenza globale e quindi dovremo cercare insieme di contemperare anche questa esigenza perché insomma quando si dice che si sta anche volentieri senza utilizzare il cellulare vorrei capire per quanto tempo chi lo dice e con quanta convinzione.